Nell'esercizio di questo video si chiede di calcolare se esiste il seguente limite, ovvero il limite per n che tende a più infinito della quantità 2 alla n più 3 tutto diviso n alla seconda più n. Allora, vediamo prima cosa ci suggerisce l'intuizione. Allora, noi abbiamo, vogliamo calcolare il limite per n che tende a più infinito di 2 alla n più 3 diviso n alla seconda più n. Quando n va più infinito nel numeratore, cosa abbiamo? Abbiamo 3 che è una costante per cui non ci interessa, è quello che cresce a 2 alla n, quindi il numeratore cresce a più infinito come 2 alla n, mentre il denominatore, diciamo il termine che cresce più velocemente è n alla seconda. Per cui ci aspettiamo che questo limite vada come 2 alla n diviso n alla seconda e sappiamo che 2 alla n cresce molto più velocemente di n alla seconda, per cui ci aspettiamo che questo limite tenda a più infinito. Quindi ci aspettiamo che il limite sia più infinito. E adesso andiamo a dimostrare questa, diciamo, affermazione. allora, l'idea qual è? È che abbiamo 2 alla n più 3 diviso n alla seconda più n. Abbiamo detto, riscriviamolo in modo da, diciamo, rendere le cose più facili o più chiare. Abbiamo detto che n alla seconda al denominatore è, diciamo, la crescita più veloce, no? Il denominatore va all'infinito come n alla seconda ed è tra numeratore e denominatore, il denominatore cresce più lentamente, perché il denominatore cresce come n alla seconda e il numeratore cresce come 2 alla n. Quindi quello che facciamo è mettiamo in evidenza la crescita più bassa. Quindi mettiamo in evidenza un n alla seconda, sia sopra che sotto. Quindi sotto rimane n alla seconda e moltiplica 1 più 1 su n. Sopra rimane n alla seconda che moltiplica 2 alla n su n alla seconda più 3 su n alla seconda. Semplifichiamo n alla seconda e n alla seconda, quello che rimane, dunque, 2 alla n su n alla seconda più 3 su n alla seconda, tutto diviso 1 più 1 su n. E dunque, se vogliamo studiare il limite per n che tende a più infinito della quantità 2 alla n più 3 diviso n alla seconda più n è equivalente a studiare il limite per n che tende a più infinito della quantità 2 alla n diviso n alla seconda più 3 diviso n alla seconda diviso 1 più 1 su n. Andiamo a studiarci questo limite, studiamo numeratore e denominatore, cosa fa? Quando n tende a più infinito, quindi facciamo il limite per n che tende a più infinito del denominatore, che gli sarebbe 1 più 1 su n, abbiamo 1 su n tende chiaramente a 0, 1 è una costante per cui rimane, non dipende da n, quindi questo limite fa 1. Mentre per quanto riguarda il numeratore, quindi vogliamo studiare il limite per n che tende a più infinito di 2 alla n su n alla seconda più 3 su n alla seconda, vediamo quanto fa, beh, quello che abbiamo è che 3 su n alla seconda, un numero diviso n alla seconda tende a 0 quando n diventa più infinito, mentre 2 alla n diviso n alla seconda tende a più infinito, perché 2 alla n cresce molto più velocemente, essendo un esponenziale, cresce molto più velocemente di n alla seconda e quindi questo limite fa più infinito più 0 che sarebbe più infinito. E dunque la conclusione è che il nostro limite, cioè questo limite qua, che l'abbiamo riscritto come questo limite qua, possiamo riscriverlo a un uguale, sarebbe il limite di una frazione, è semplicemente il limite del numeratore diviso il limite del denominatore. Il limite del numeratore è più infinito, mentre diviso il limite del denominatore, abbiamo detto 1, più infinito diviso 1 fa proprio più infinito. Per cui la conclusione è che il limite per n che tende a più infinito, cioè proprio il nostro limite di 2 alla n più 3 diviso n alla seconda più n, è proprio uguale a più infinito. E con questo abbiamo concluso l'esercizio.